Io credo ancora in una scuola dove i bambini possano tornare ad andare a piedi. Se i quartieri non offrono quanto dovrebbero offrire, è evidente che l'utenza si trasferisce da un'altra parte della città e si mette in colonna. La scuola in ciascun quartiere è un presidio sociale che va salvaguardato. Molteplici le ragioni per cui preservare le strutture e le funzioni degli edifici scolastici è un'operazione prioritaria per l'amministrazione comunale. Ecco che il cronoprogramma degli interventi nelle scuole della città viene monitorato scrupolosamente. Qui siamo nel quartiere Anconetta, nella scuola secondaria di primo grado Mainardi. Preminente in questo edificio la riqualificazione energetica con la sostituzione dei vecchi infissi per preservare la dispersione termica e il rifacimento dei bagni. 350 mila euro l'investimento complessivo. La volontà è quella di investire sulle scuole e di quartiere per rendere sia appetibili dal punto di vista strutturale, per sostenere sicuramente il grande lavoro che viene fatto dal punto di vista formativo, ma per far sì anche che le famiglie non si spostino per accompagnare i propri figli a scuola. Quindi far restare i ragazzi e le ragazze all'interno del proprio quartiere. È sicuramente un presidio di quartiere dove ci sono le scuole, ci sono famiglie, ci sono famiglie giovani con bambini piccoli, c'è un contatto con il territorio di vita e non si riducono i quartieri a quartieri di solo anziani, che sono un valore nella misura in cui ci sono anche i bambini, ci sono le famiglie. E dare un segnale anche a queste scuole che dal punto di vista formativo fanno già un ottimo lavoro e così diamo anche un sostegno dal punto di vista dell'investimento sulle infrastrutture.